E bentornato a tutti ragazzi, sono Everett Perché crime boss sul mio canale? E' successa una cosa abbastanza strana Di quelle cose che ti fanno pensare Ma ci sono le spie in casa mia? Perché venerdì scorso ho registrato Il video che avete visto in questi giorni Il fallimento di Payday 3 Mi son messo davanti il mio microfono e La mia telecamera e ho parlato ininterrottamente Per tre quarti d'ora Poi sabato e domenica ero fuori casa Quindi non avrei potuto neanche pensare Di editare il video, cosa che ho fatto dopo Il weekend nei ritagli di tempo Ma domenica sera rientro a casa Apro la mia mail e trovo 505 Games Crime Boss Rock A City Invitation Praticamente Alessandro di 505 Games Che saluto grande Ale Mi scrive per invitarmi a giocare Crime Boss Rock A City In occasione del suo lancio su Steam Perché questo titolo è uscito l'anno scorso Ma solo su Epic Ho chiesto ad Alessandro se conosceva Me o il mio canale prima della ricerca Dell'Invitation e mi ha risposto Che conosceva me e il mio canale Grazie al mio impegno Quasi decennale aggiungerei Su Payday E quindi si chiedeva se fosse interessato A un altro gioco di rapine E mi fa sorridere e anche riflettere Come dicevo perché Cavolo Io venerdì Registro e non pubblico Il video Il fallimento di Payday 3 E domenica mi arriva questa mail Crime Boss Rock A City È praticamente Ad oggi Il maggior competitor Di Payday 3 O comunque Della saga di Payday Perché Si GTA 5 Va bene Ci sono le rapine Ma non è solo un gioco di rapine E quindi mi son detto Ma ci sono cimici In camera mia A parte questo Sono contentissimo Della mail di 505 Games E ringrazio Alessandro Ringrazio il suo collega Gautier Per avermi dato 4 chiavi del gioco base Più 4 chiavi degli LC nuovo Se la Starbreeze Dopo anni e anni Di servizio e collaborazione Mi tratta in un modo Che definiremo X Mentre la controparte Mi tratta in un modo Opposto Chi sono io Per negare Le mie skills Alla controparte Quindi ragazzi Se annuncio Ufficialmente Che insieme a Tutti gli altri video Tutti gli altri progetti Che sono in essere Sul mio canale Arriverà Anche Crime Boss Rock A City Con annesse Tutte le relative rapine Approfitto di questo video Per presentarvi Il tutorial del gioco Andiamo a vederlo Ed eccoci qua ragazzi Intruffolatevi nel cortile Sul reto Io per completezza Vi faccio vedere L'interno della gioielleria Prima di entrare Vi faccio vedere Che ci sono un sacco di telecamere C'è una guardia Però è di spalle Rispetto all'ingresso Noi dobbiamo andare Nel cortile Sul retro Scavalchiamo Questo muretto E ci troviamo Due operai Li dobbiamo ovviamente Legare Controllare In maniera tale Che Non ci Diano fastidio Durante la rapina E siamo a posto Adesso Avremo Questa guardia qui Che Ovviamente Non possiamo sparargli Per fare un lavoro pulito Ma dobbiamo Sottomettere Quindi Col calcio della pistola Lo prendiamo E poi lo leghiamo Ovviamente Non sarà sempre così facile Ma ricordo Questo è un tutorial Lì c'è la telecamera Ovviamente Le telecamere Vanno evitate Anche perché Se ci vedono fare qualcosa Di sospetto In alto a destra Sullo schermo Vedete che ci sono Tre punti esclamativi E quindi Riceveremo un avvertimento Se facciamo qualcosa Di più grave Scatta direttamente L'allarme Quindi noi La disattiviamo Sparandoli La possiamo disattivare Anche con un colpo melee Però vedete Che ci ha dato Già un avvertimento Quindi non possiamo Diciamo Sparare O disattivare Tutte le telecamere Che vogliamo Per Aprire Le serrature Ci sarà Questo minigioco Dovete Schiacciare Il pulsante Sinistro Del mouse Quando vedete Che la serratura Si gira In senso Orario Anche orario E niente Quindi siamo dentro Siamo dentro Chiudiamo le porte E andiamo Dal guardiano notturno Il guardiano notturno Facciamo lo stesso lavoro Che abbiamo fatto Con la guardia Di fuori Lo leghiamo Prendiamo la chiave Quindi la keycard Per la security room Aspettiamo che Si accenda L'interazione Entriamo E tramite Questo Computerino Questo schermo Possiamo disattivare Le telecamere Quindi tutte le telecamere Sono state disattivate Adesso Vi faccio vedere Che io Da dietro Non posso entrare Non è proprio L'interazione Quindi devo passare A un altro personaggio Questo ovviamente Funziona solamente Nel momento in cui Fate le rapine In single player Quindi se le fate Anche Con una persona Non c'è questo Cambio di Di personalità Di personaggio Ora che l'abbiamo fatto Possiamo Sbloccare Diciamo La porta principale Dello store Della gioielleria E vedete che È venuto fuori È stato visto E non è riservata Perché comunque Se ci beccano In quest'area qua È come se fosse Un'effrazione Hanno introdotto Questa nuova Feature Che è Sottometti Ovviamente O la guardia O comunque Il guardiano notturno E simili Fai sottomettere Questa Cioè il bersaglio Che diciamo Contrassegni Dai bot Tanta Tanta roba Come Il fatto di far Prendere il loot Ai bot Oltre che Ovviamente Dal player Cioè basta che Vedete Con Questo tasto Che è il pulsante In mezzo del mouse La rotellina Si contrassegnano Le cose Se invece Tieni premuto La rotella del mouse Ti fa vedere Che Contrassegni Il loot Da prendere Per il bot A cui corrisponde Il colore Quindi Questo che abbiamo davanti È il blu E prenderà Il loot Blu Così Sleek Praticamente Tank Prenderà il loot Verde Midnight Quello giallo Ma la cosa bella È che I bot Oltre a prendere Il loot Vedete Che lo portano Anche Al furgone Quindi Di base Ogni bot E ogni player Ovviamente Possono prendere Due borsoni Di bottino Una volta Arrivati Ovviamente Alla Massima capienza Dei borsoni Quindi Due per uno Poi Ci sarà anche La skill Di un personaggio O di vari personaggi Che possono prendere Addirittura Tre Per uno Una volta Preso tutto Lo portano Al furgone Direttamente Senza che Vi dici niente Questa È una feature Della madonna Secondo me Comunque Vi faccio vedere Appunto Che Si può Contrastinare Tutto il bottino Possibile Immaginabile E poi Ovviamente Il tutorial È finito Ma Ovviamente Le vetrine Oltre a spaccarle Si possono anche Disattivare O comunque Aprire Tramite Il lucchetto Non sto facendo Vedere Interazione E raga Abbiamo finito Lavoro pulito Abbiamo solamente Ricevuto Un singolo Avvertimento Per aver Disattivato La telecamera Ma ovviamente Il tutorial È fatto In questo modo Controlliamo Che abbiamo Tutto Manca solamente Questo gioiello Qua Che prendo io E abbiamo finito Raga Questa è stata Ovviamente La missioncina Per farti capire Come funziona Il mondo Di Crime Boss Rock City Ma vi assicuro Perché io L'ho già provate Ci sono delle missioni Veramente Bellissime Quindi Mettete mi piace Commentate Iscrivetevi E state Veramente Connessi Al canale Perché ne vedrete Veramente Delle belle Con me Fritz Albe E Joddu E tutti gli altri Eisters Intanto Mi ha sbloccato La Cement Ninja Neofita Ricordo Che Crime Boss Rock City Uscirà Il 18 Giugno Su Steam Su Epic Lo potete già trovare Però Molti dei miei contatti Molti di voi Fan Siete su Steam Quindi vi dico La data Del lancio Su Steam Ovviamente Questa è la schermata Di fine livello E vi fa vedere Ogni player Quanto ha preso In dollari E poi C'è la schermata In cui possiamo Scegliere Cosa sbloccare Io in questo caso Ho scelto Un po' Random Cheat E ho scelto Una skin Delle armi Regà Questo era il tutorial Ricordo Di nuovo Di mettere Mi piace Commentare E iscriversi Per vedere Crime Boss Rock City Sul canale Di Everett The White Spider Ciao a tutti E iscriversi